In questo video definiamo la capacità elettrica dei conduttori metallici. Attenzione che la capacità elettrica si può definire soltanto per i conduttori, non per gli isolanti. La definizione è concettualmente simile alla capacità volumica dei recipienti. Immaginiamo qua due recipienti cilindrici, questo verde che è più stretto e questo nero che è più largo. Li riempiamo con la stessa quantità di liquido, per esempio d'acqua, per esempio 50 ml d'acqua, entrambi. Naturalmente il livello raggiunto dall'acqua è più alto nel bicchiere più stretto, invece nel bicchiere più largo il livello rimane più basso. A parità di acqua, stessa quantità di liquido. La capacità volumica è definita come il rapporto tra la quantità di liquido che sta nei bicchieri diviso il livello raggiunto dall'acqua. Vediamo infatti che i due recipienti hanno lo stesso numeratore, stessa quantità di liquido, ma i livelli sono diversi. Siccome il livello del bicchiere B, quello più largo, è più basso, il denominatore è più piccolo, quindi la capacità volumica è più grande. Questo è logico, è quello che ci aspettavamo, cioè che il bicchiere più largo abbia più capacità del bicchiere verde e bicchiere A che è più stretto. Quindi la definizione di capacità volumica è intuitiva perché indica, dato una certa quantità d'acqua, indica che il recipiente ha una capacità volumica tanto maggiore quanto più piccolo, basso, è il livello raggiunto dall'acqua. Quindi la capacità volumica è inversamente proporzionale al livello. Se il livello rimane basso, la capacità del recipiente è grande. Passiamo adesso alla capacità elettrica. Immaginiamo di sostituire i due bicchieri con due sfere di metallo. Quella verde più piccola, quella nera più larga. Immaginiamo di dare la stessa quantità di carica alle due sfere, per esempio 50 nanocoulombe che si vanno a depositare sulla superficie sia della sfera piccola che della sfera grande. È l'effetto pelle. Cominciamo con la sfera piccola. Sappiamo che all'interno il campo elettrico è uguale a zero, schermo elettrostatico o gabbia di fare dei. E quindi il potenziale elettrostatico all'interno della sfera di metallo, che sia cava o sia piena, è indifferente. Il potenziale elettrostatico è costante ed è pari al valore in superficie. Infatti in questo grafico vediamo che all'allontanarsi dal centro il potenziale all'interno della sfera rimane costante, e qui è riportato il potenziale, fino a raggiungere il valore in superficie che sappiamo valere kq fratto il raggio della sfera. Dopodiché, uscendo fuori dalla sfera A, la sfera verde, il potenziale elettrostatico cala, come indicato in questo grafico, che è un ramo di perbole, cala con l'andamento kq fratto r. Lo stesso identico andamento kq fratto r vale anche al di fuori della sfera grande. Questo è il potenziale che cala come 1 su R anche per la sfera grande, perché la quantità di carica è la stessa per le due sfere. Quindi fuori della sfera grande l'andamento del potenziale è uguale per le due sfere, perché hanno la stessa carica. Ma la sfera grande ha un potenziale all'interno che è costante ad un valore più basso della sfera piccola. Il valore del potenziale in superficie per la sfera grande è kq su rb. rb è il raggio della sfera grande, invece per la sfera piccola il valore superficiale del potenziale era kq su ra. Quindi vediamo che il potenziale in superficie e anche all'interno per la sfera grande è più basso del potenziale in superficie della sfera piccola. E questo ha parità di carica che c'è su entrambe le sfere. Per esempio, abbiamo detto 50 nC. La situazione quindi è molto simile a quella dei bicchieri di prima. Le due sfere contengono la stessa quantità di carica, però la sfera più grande, questa nera, mantiene il suo potenziale interno e superficiale a un valore più basso rispetto al potenziale interno e superficiale della sfera piccola. Esattamente come il livello dell'acqua nella sfera grande, nel recipiente grande, era più basso, livello b, rispetto al livello dell'acqua nel recipiente piccolo. Quindi la quantità d'acqua è diventata la quantità di carica e il livello raggiunto dall'acqua è diventato il livello raggiunto dal potenziale. Più la sfera è grande, più il livello del potenziale è basso. La definizione di capacità elettrica è praticamente identica a quella della capacità volumica. L'acqua è sostituita dalla quantità di carica e il livello raggiunto dall'acqua è sostituito dal potenziale superficiale. La sfera grande ha una maggiore capacità elettrica della sfera piccola e in generale questa definizione non vale soltanto per le sfere metalliche, ma vale per qualsiasi corpo, qualsiasi oggetto di metallo. La capacità elettrica infatti è grande quando mettendo su un oggetto di metallo, sulla sua superficie, una certa quantità di carica il potenziale a cui si porta la superficie dell'oggetto rimane basso. Intuitivamente come si vede anche da questo disegno, più l'oggetto ha grandi dimensioni e più la sua capacità elettrica è grande un po' come accadeva per i recipienti. I recipienti più larghi, più grandi, hanno maggiore capacità volumica. L'unità di misura della capacità elettrica, qua mi sono dimenticato di scriverla, è il farad che si indica con la lettera maiuscola F e corrisponde a un coulomb diviso un volt. Un conduttore metallico ha la capacità elettrica di un farad quando ponendo sulla sua superficie un coulomb di carica la superficie si porta al potenziale di un volt. Ora noi sappiamo che è impossibile mettere un coulomb di carica su un conduttore in pratica perché un coulomb di carica è una quantità troppo grande per poter essere isolata su un oggetto. Però immaginiamo di riuscirci, un coulomb di carica farebbe però salire il potenziale a un valore altissimo non certo un volt soltanto. Quindi non è verosimile porre un coulomb di carica avere il potenziale in superficie che sale soltanto a un volt. Questo se accadesse vorrebbe dire che il conduttore di metallo ha una capacità elettrica enorme quindi la capacità elettrica di un farad è una cosa mai vista. Vedremo che i normali conduttori di laboratorio, per esempio una sfera di qualche centimetro di raggio ha tipicamente una capacità elettrica di alcuni pico farad, pico 10 alla meno 12. Quindi il farad è una unità di misura gigantesca nella pratica si utilizzano i sottomultipli come il pico farad o il nano farad che sarebbe un miliardesimo di farad. La capacità volumica e la capacità elettrica sono anche analoghe alla capacità termica degli oggetti, dei corpi che è definita nello stesso modo Q dove però stavolta Q è la quantità di calore che viene data a un oggetto diviso l'aumento di temperatura di quell'oggetto. Infatti un oggetto ha una grande capacità termica quando io posso dargli tanto calore e la sua temperatura si alza di poco.